Evacuazione dei primi civili dall'acciaieria Zostal a Mariupol, occupata dai militari del battaglione Azov. L'agenzia di stampa TASS annuncia che sono usciti i primi 25, tra cui sei minori di 14 anni. Pesantemente bombardata dai russi, la grande acciaieria è l'ultimo baluardo della resistenza ucraina Mariupol. Oltre ai difensori della città, molti civili si erano nascosti nei bunker sotterranei dell'impianto. Per quanto riguarda l'evacuazione dei civili e dei militari feriti da Zostal, il cessate il fuoco è iniziato soltanto alle 11 di sabato e non alle 6 come avrebbe dovuto. Ora, però, entrambe le parti lo rispettano. Così ha detto in un video Sviatoslav Palamar, vice comandante del reggimento ucraino Azov, aggiungendo di sperare che le donne e i bambini, estratti dalle macerie, vengano portate a Zaporizia, nel territorio controllato dall'Ucraina. Chiediamo, inoltre, di garantire l'evacuazione non solo dei civili, ma anche dei militari feriti, che hanno bisogno di un aiuto medico. Così conclude. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie. 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 Grazie.